Galeas per Montes Conducendo fu un'impresa che tra il 1438 e il 1439 portò la serenissima Repubblica di Venezia a intraprendere per ragioni militari un viaggio unico nel suo genere e mai più ripetuto, condurre una flotta di navi lungo mare, fiumi e montagne, dal mare Adriatico fino a raggiungere il lago di Garda e difendere la lontana alleata città di Brescia, da tempo assediata dai Visconti. Galeas per Montes Riconducendo è invece una nuova impresa, un viaggio lungo lo stesso percorso ma con scopi diversi, ricostruire un ponte immaginario tra mare e montagna, tra barche tradizionali e legno. Capitan Boris con degli amici, restauratori di navi storiche, barcaioli e appassionati, ha lasciato Venezia il 12 settembre con una San Pierota che per anni ha navigato tra canali e secche della laguna e da Chioggia ha risalito l'Adige, a remi e a vela e solo per piccoli tratti a motore e poi via terra ha raggiunto il lago di Garda. Un viaggio degno della sua storia, umile negli intenti e di riscatto per tutti coloro che lottano con passione per mantenere viva una tradizione, per conservare un immenso patrimonio di ingegno e artigianato che rischia ogni giorno di più di andare perduto. Per la cronaca, a Venezia perse la prima battaglia navale, pare che gli uomini della Serenissima avessero festeggiato troppo per l'impresa riuscita. Vediamo il servizio. Come mai hai deciso di prendere parte a quest'impresa? Allora, io a Venezia mi occupo di barche a remi praticamente, ho un'associazione che si occupa di utilizzo, restauro e condivisione delle barche tradizionali portate con la Boga alla Veneta, diciamo. Infatti per fare questo viaggio sono servite diverse competenze, a parte la navigazione a vela di cui io non mi occupo personalmente, ma Boris, serviva qualcuno che vogasse, chiaramente perché il viaggio è stato effettuato il più possibile utilizzando metodi non inquinanti, a basso impatto ambientale, diciamo. Quindi abbiamo utilizzato il motore pochissime volte, insomma, solo nei tratti difficili. E quindi ho partecipato soprattutto per questo, insomma, perché mi piace vogare, portare la barca a remi. Quali sono state, se ci sono state, le difficoltà maggiori che avete riscontrato durante il viaggio? I vari interventi dell'uomo sull'Adige sicuramente, il canale dell'Enel, che hanno modificato molto il corso dell'Adige e quindi anche la navigabilità è un po' difficile. Il libro poi è stato anche messo in scena a teatro, vero? Sì, il testo è diventato uno spettacolo teatrale con delle musiche molto belle, scritte da Roberto Tombesi del gruppo Calicanto di Padova. Ci sono anche proprio dei testi, delle canzoni. C'è tutta un'ambientazione che, oltre, ripeto, a sottolineare tutti i fatti proprio di genio militare, raccontano anche le vicende emotive dei protagonisti, che sono il più famoso, importante, si chiama Sorbolo da Candia, cioè un uomo della Serenissima che veniva da Creta, e il capitano di Ventura Gattamelata, che in queste zone ha compiuto le sue ultime gesta prima di ritirarsi. Ma è stato così faticoso che ha dovuto poi ritirarsi, probabilmente. Quanti eravate a bordo? Allora, fissi siamo stati più o meno in tre. Poi abbiamo avuto diverse persone che sono venute ad aiutarci, appunto, per competenze diverse, magari per spingere la barca quando era da alare e quindi da tirare fuori dall'acqua, oppure quando era da varare e quindi da ributtare in acqua, perché ci vuole anche... ci vuole tanta forza, insomma, ecco. Il sindaco Gianni Morandi ha assistito con interesse alla discesa della San Pietrina da Nago a Torbale e Alvaro. Certo, infatti. La cosa interessante, al di là della rievocazione storica, che sicuramente è importante, importantissima, di questa impresa titanica che è l'ingegneria militare, a me piaceva sottolineare la parte più ingegneristica, cioè la parte costruttiva delle barche, poi anche l'equipaggio, Boris è un maestro d'ascia, quindi uno che conosce, che le costruisse, che conosce il legno, quindi c'è quella parte che è molto interessante e affascinante, che è di quelle professioni che vanno perse. Poi c'è anche un altro aspetto che a me interessava, che era bello, affascinante, intrigante da ripercorrere, che è che loro hanno fatto tutto il percorso da Venezia al lago di Garda, passando quindi a ritroso il fiume Adige e questo credo che sia una cosa interessante perché voglio leggerla come un legame, un cordone umbilicale che conosce il mare passando dalla montagna fino al lago, un cordone umbilicale che solitamente l'acqua e i fiumi dividono, le due sponde anteposte e quindi sembra quasi più una dividente, in realtà unisce, unisce popoli, unisce culture, unisce paesaggi, sempre accomunati dalla presenza dell'acqua. E poi la cosa interessante è arrivare qui, percorrere la Valletta di Santa Lucia, una magnifica e splendida Valletta di Santa Lucia che fin dal suo inizio si vede il lago, il lago che si apre verso il mondo, un lago, un tempo teatro di battaglie e adesso teatro di competizioni sportive, teatro di gente e popoli che arrivano qui non per fare la guerra ma in pace, per turismo, e quindi è anche una cosa bella e quindi è bello vivere questi momenti forse e esaltare più la parte, come dicevo all'inizio, ingegneristica e non quella militare. Qual è stato invece il momento più bello, il ricordo più bello che porterai dietro da questa impresa? Beh, sicuramente la collaborazione delle varie persone che abbiamo trovato lungo la strada. Paolo Malvini nel 2007 ha scritto proprio un'opera su questa impresa dei veneziani. Sì, è vero, a dire la verità segue tantissimi altri piccoli scritti, brevi articoli, cronache che dal 1500 vengono prodotti per raccontare quest'opera. Quindi anch'io ho scritto questo lavoro che si può leggere come una storia che riprende le gesta di questo esercito che nel 1438 e 39 trasportò qui delle galee perché i veneziani volevano conquistare il Garda ed era completamente occupato dai milanesi. Il loro scopo era anche recuperare la città di Brescia, quindi un enorme sforzo, una magnifica intrapresa per scopi militari, però a noi piace anche pensare che quando un'impresa è così potente, così coinvolgente anche dal punto di vista emotivo e lo dimostra il fatto che tutti continuano a parlarne, diciamo che il fatto va oltre il fatto militare e quindi va bene ricordarlo, insomma, anche se la guerra in fondo continua a non piacerci. Quanto raggiungerete Desenzano? Desenzano in 7 o 8, dipende dai condizioni del tempo. Quanto raggiungerete Desenzano? Quanto raggiungerete Desenzano?